Ieri va della giornata, ma sarimmo un'eridate, con bravura e iota al dì, la mia tu, pari in camis, tutti insieme in vecchia azzurte, scoltarimmo un'estoriute, con tizzo e muistiti, ogni dì si fa così, tutto il mio docrank urlano, non sta pieni di papà, non stalla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamma, tutto il mio docrank urlano, non sta pieni di papà, non stalla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamma, e non stalla lontan, lontan, sta fer' piacchia la mamma. Ma Daria, non ti pari di esagerare? E' vero, tu hai ragione, ma quando tu scominci con tu, tu arrivi più affermati. Sì, lo sai, ma il bastare è sdome sa vedassi un limite. Dariute, vonde, ti fasi male. I dolciuzzi industriali sono pieni di grassi e di conservanza, che fasi male e che fasi ingrassare. Fonde mangiato me i crani, Daria! Se tu continui così, un snotto, tu farai male di panse. E con tutti questi scaramelli, ti vieneranno le scariste ai dici. E per finire, tu metterai anche il suo peso. Chiara, non hai dormito nulla l'anno passato. Ho avuto male di dente. Ho avuto l'alto del dentista, ho avuto minore. C'è dolore. O cruderei. Con tutti questi sporcheri, questi dolci che tu hai mangiato. Ti vedi visare io. Per me, tu vorresti decidere di mangiare cose più sane, se quando tu starai un po' con me, scominciare a fare un po' di movimento. Di domani tu potresti spropita e scominciare una buona dieta sana. E con me, vieni di corso dal dentista. Ho avuto una biella carica in tal dente. C'è male. Per fortuna che il dentist mi ha sistemato. Non mi ha detto di mangiare manco il dolci. E io è vero. Ho esagerato un errore. Ha detto la verità, Chiara. Mi deve consegnare di fare un tic di dieta e di mangiare cose un po' più sani. C'è fan che hai però. Guardi la verità. E io è già passata un'ora di quanto sei là di via dal dentist. Ben, il dentist mi ha detto di non mangiare tanti dolci. Ma questi non sono dolci. E io non sono dolci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu diventerai pesante e non arriverai a spruire a cori e a giù. Non stai a fare fente di noi. Non sei stupide. Ti vedo, beh. Ti vedo, tu sei in diete. Daria, Daria! Oh, Daria! Tu hai di nuovo esagerato con le sporcherie che ti fanno male ai saluti. Per fortuna che frie e muli, i nostri snufs amici, sono venuti avvisarmi che tu stavi male. Oh, chi è lì? Oh, troppi patatini che tu hai mangiato. Volevi tu scopare per casa? Daria, non tu puoi dispropite là in davanti così. E non tommo il palpeso, ma anche pesa lui. Tu, non tu riesci a spruire a cori, non tu puoi spruire là e ti fai male la panza. Ma ti farai un bel canarino al limone. Non so, io non è un ghiacchio. Quindi ho proprio te mangiare un canarino per farmi passare tutto. Se hai, tu capis, Daria, canarino è anche il nome dell'infus che si fa con gli scusi del limone. Che va bene un pardiglieri. Grazie a me. Come? Sgonde! Di voi ho avuto di cominciare a mettere in pratica tutti i consigli che mi adattano chiara. Venite a mangiare sano e bene. E anche se sei un mangiare di più pesante, si può fare un nome ogni tanto e senza esagerare. Sgonde! 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 e tutto hai di mangià. Mangia tutto, ma plan planchini mi fa sben al curisi. Pulis fomis e verdure, non si slarghe la cinture. Cum dolciutze caramellis, mal di dinkio vio tristellis. No si a pieza diera, o di duccia di mangià. Mangia be e mania sa, a crezcuar di frut fulam. No si a pieza diera, o di duccia di mangià. Mangia be e mania sa, altre suar di frut fulam. Pritulis a carneval, dal sicur mi fasi in mar. Marmellate, no vio clore, di maniale a bui nore. Se ho vengessi un gran campion, mai saltà la culizion, devi aga in quantità, e fa sportale con sé a. No si a pieza diera, di duccia di mangià. Mangia be e mania sa, altre suar di frut fulam. No si a pieza diera, o di duccia di mangià. Mangia be e mania sa, altre suar di frut fulam. Facciamo un gioc. Vi ho detto se è buona di individuare quali sono le cose di mangià che non sono sane tra queste 6 in 10 secondi. le cose di mangià che non sono sane. Sono la lettera A, la lettera D e la lettera E. Vi ho detto! Bravi! Provate come ho detto quali sono le cose di mangià che sono salati in 10 secondi? Sì, sono pronti! Allora, via! Le cose di mangià che sono salati sono la lettera A e la lettera D. Vi ho detto! Induvinat! Bravs! Pomis e verdure di Futura Edizioni Golaine, Free & Ulli Progetto finanziato da Arlev agenzia regionale per lunghe furlane pomis e verdure Free & Ulli sono in talort Ulli alle scaturit per someancis Cerobonis gli spatatis gli spatatis Pumpkin la coce Free al fassi il cogo al cousine fa sui e cevole Ulli gli ullè che botte sclop Free al fassi bocchie di ridi tanche une banane C'è scusa è dure i due amici amate inculis pomis esotichis il cocco C'è stram anche questo mi so me Soreli il kiwi già al furlan Pierut dal fornare Hai al pan di il? Sì sicuro Bra furbo tu potevi sfan di manco Un sior bocognon al monte su su un tune belancie elettroniche e la belancie i dis Parplase monta su un par volte grazie Se esobonis di fevela par furlan Inviate un vuestri video indolà che non smandai su un pincel un e fiancione un e barzalete un e conte par furlan o un vuestri disegni lì che si vio di un momento in particolare di un e pontade di Maman Mandai tal numar 3 3 3 7 2 0 2 2 1 4 Oppura è direzione di queste elettroniche Maman Caiut tvstar POP CO Occhio il telefonu tal vatignut in orizzontale e no in verticale 2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 22 21 22 22 23 diete io, ma anche tu, eh! Mamma! Tutto il bielo, gran fulano, non sta a piedi di papà, non sta a la lontan, lontan, sta a fare piaccia alla mamma, e non sta a la lontan, lontan, sta a fare piaccia alla mamma.